buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi per dirti che c'è anche un altro strumento per eliminare cancellare definitivamente le tue allergie allergia al fieno allergia al polline allergia al latte allergia al cambio di stagione allergia a qualsiasi al da fieno da qualsiasi cosa tu possa immaginare perché siamo abituati a ragionare come macchine ma fermati un attimo e pensa quando mi è capitata la prima volta questa forma di allergia io a cosa pensavo cosa provavo dal punto di vista emotivo una forte rabbia un forte spavento una forte vergogna uno shock emotivo in senso la telly che si è incagliata nel tuo subcosciente nella tua mente profonda nel tuo pilota automatico questa emozione questa immagine che ti fa sempre quando si presentano i tuoi cinque sensi queste immagini ritornare ad star nutire a sentirti male e compagnia bella quindi ti invito a sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona a fare tutte le domande il caso e iniziare a cancellare quell'immagine presente nel tuo subconscio con l'ipnosi vera e professionale poi se non hai voglia di girare cappelle non ci crede può iniziare anche dall'auto ipnosi scrivimi in privato in pubblico ipnologi associati che oggi la libro punti il t e compatibilmente mi impegna i miei tempi ti consiglierò per il meglio ok visita la mia fan page su facebook ipnosi auto il pro se il dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati puntocom iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel quindi che gli cambia la vita ed elimina definitivamente le allergie e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino e attenzione la mia non è né diagnosi né terapia né cure soltanto un consiglio informativo spazio nato a prescindere dal sottoscritto e poi visitare l'anset life riviste scientifiche internazionali che ti parleranno dell'ipnosi vera e professionale e delle allergie ok quindi una cosa vaccini medicina non esclude l'altra che l'ipnosi il potere delle parole spero di averti aiutato e al prossimo video un bacio un abbraccio